ci arrivo invece no finisce così il primo tempo c'è ancora un'altra occasione per noi si prova da qui parata e a questo punto finisce il primo tempo ci dobbiamo rifare nel secondo tempo dai attenzione vediamo se riesco a fare qualcosa se riesco a saltarli in qualche modo intanto me ne vado sulla fascia poi se lo devo saltare con un dribbling lo faccio mi accento in aria di rigore questo ancora mi segue non si rende attenzione ci provo la para vediamo se riesco a costruire qualcosa da solo anche la tengo ci provo deviata non è possibile cazzo che palla recuperata tutto perfetto dai dai vediamo se riesco a costruire l'azione personale parata però c'era il giocatore poteva tirare da lì lo salto lo salto attenzione in mezzo a due in mezzo a due non so come muovermi attenzione perché sono costretto a ritornare indietro però ho tenuto la palla in mezzo a due attenzione tira di testa vai si 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 tutto per merito mio ho fatto delle cose incredibili ho fatto 1 a 0 1 a 0 il gol sembrava non arrivare mai ma adesso grazie a me e alle mie azioni può succedere di tutto vediamo se riescono a fare anche loro qualcosa la mette in mezzo di testa non ci arriva però meno male che è tornato indietro meno male altrimenti avremmo rischiato grosso attenzione all'avversario attenzione la difesa ribatte 2 volte me la passo da me ovviamente eh devo saltarli io devo saltarli cazzo vediamo se ci posso fare qualcosa prendila cazzo che cazzo fa il simulare la palla così ah non lo so io ma io non ecco il momento della sostituzione vediamo se ci riesco fuori mi ha sostituito e abbiamo confermato la vittoria per 1 a 0 siamo in finale il Feyenoord ha vinto anche quindi la finale contro il Feyenoord imperdibile ha un'autostrada davanti a sé era messa che è per fare il portiere era stato bravo ma sulla seconda conclusione non ha potuto nulla buona possibilità e c'è il gol sempre lui non ha sbagliato finisce il primo tempo i giocatori verso gli sfogliatori fantastica come vedete sulle tribune con i tifosi subito caldi per le emozioni di questo match che ci dirà tanto sull'ambizione in scalare il calcio di rigore se sfruttano questo tiro dal dischetto possono passare a condurre la munizione secondo me sarebbe stata eccessiva e il gol e il gol trasforma con sicurezza dal dischetto si qui recupera un gran pallone della metà campo avversaria e la messa gesto tecnico spettacolare conclusione al volo perfetta per tecnica e coordinazione finisce qui la prima frazione squadra che fa da rientro degli sfogliatori immagini che vi giocano in diretta dalla Yohan Krah e Farine che ha dedicato a una delle leggende absolute ben intercettato arbitro che manda tutti negli sfogliatori per win grande intervento del portiere c'è spazio occasione e c'è la rete blocca nel match dopo aver dominato è finita niente da fare per l'Ajax sconfitto in questo match la metti in area per via il portiere parla ancora buona non c'è più tempo risultato che certifica il loro approdo al prossimo turno era inevitabile che finisse così hanno approcciato questa doppia sfida meglio ed era ovvio che fosse così per una partita del genere gara che si risposta in uno stadio strapieno il pubblico non ha voluto mancare questo appuntamento sconfitto in un'altra partita del pari c'è un'altra partita del match che si è un'altra partita del match che si è un'altra partita del pubblico tocco verso Berguena arriva il segnale di chiusura della prima frazione ci ritroveremo per la ripresa una parata una parata vera e propria di stelle il campo pronta a illuminare il giorno è finita niente da fare per l'Ajax sconfitto in questo match escono dal campo con una sconfitta ma comunque testa alta dopo una partita non dovrebbe davvero mancare lo spettacolo in campo oggi difficile annoiarsi quando si è trompa la presenza di sconfitto attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio palla in rete 1 a 0 hanno l'occasione attenzione per trovare il gol del pareggio hanno pareggiato tutto da rifare si libera del proprio marcatore attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio e c'è la rete passano in vantaggio quando manca poco alla fine il tempo è dalla loro parte dovranno farselo bastare e riversarsi in avanti per tentare il tutto per tutto tempo scaduto l'arbitro fischia alla fine vittoria a Liverpool nel match di andata sono rimasti in due a contendersi la Coppa e la partita che fa differenza tra inferno e paradiso andiamo a giocare questa finale di Coppa contro il Fire Leonor possiamo subito avere l'occasione per portarsi in vantaggio attenzione attenzione nostra attenzione c'è il tiro re te subito attenzione perché già subito possiamo andare a farne un altro niente da fare ci ha fermato questa volta palla nostra passamela passamela qua niente da fare attenzione al Fenord al Fenord mamma mia mamma mia con calma siamo in vantaggio gestiamocelo meglio questo vantaggio dai eventualmente andiamola a chiudere ma non così così non chiudiamo proprio niente mamma mia che passaggi mamma mia assurdo se vinciamo questa cosa qua questa finale eccola qua l'abbiamo recuperata bene attenzione perché nostra non riesco a saltarli attenzione 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 crossamela qua perfetta attenzione perché lo salto invece no incredibile Feyenoord c'è in attacco c'è il portiere attenzione ancora solo non è possibile così però non è possibile l'aveva parato il portiere dai sfortunati proprio sfortunati non vorrei che ci va a finire come con il Liverpool attenzione meno male se l'ha mangiata attenzione perché adesso abbiamo ancora l'occasione di vincere non è ancora chiusa la partita cominciamo subito questo secondo tempo facciamola al meglio vediamo se riesco a saltarli questo è fallo bello e buono non c'è cartellino instead of searching for what they gave him a strong will strong mind causes mayhem we could change the world change times rearrange them stayin' on pace runnin' the race life is a chase I don't wanna place I wanna be first work till it hurts dehydrated thirst till I'm in a hearse high ambitions in the right in the right